Allora la sindrome del principe azzurro, questa sindrome qua è facilmente intuibile e il fatto di stare sempre a chiedere l'aiuto di qualcuno, cioè tu stai facendo delle cose, cioè non ce la fai e stai aspettando che venga il principe azzurro magari oppure con la cavalleria a seguito a levarti le castagne dal fuoco, non so se avete capito, questo l'ho chiamato in questa maniera qua, in onore alle femministe tossiche, perché loro solitamente dicono poi alla fine stanno tutti quanti a pregare che venga il maschio oppure la cavalleria, in questo caso la cavalleria si intende le istituzioni a darle una mano cioè il maschio devi fare questo, il maschio devi fare questo, sono delle femministe tossiche, no perché sono proprio quelle lì che da solo non sanno fare un cavolo perché a casa sono servite e rivedite e allora stanno cercando sempre di chiamare l'aiuto di qualcun altro perché da solo non sono capaci di, proprio perché sono state straviziate, da solo non sono capaci di farcela e allora stanno sempre a chiedere le istituzioni, le fare così, cose, sono delle sputa sentenze in pratica, no perché si è rifatto che proprio il fatto del femminismo dovrebbe stimolare le donne a come si chiama, riuscire a farcela da sole, invece le femministe tossiche e quelle paratossiche non hanno capito un cavolo, non si sono fatte capire, comunque spero di aver fatto capire che cosa sia il sindrome del principe azzurro, quella che poi alla fine dei conti arriva il principe, però non è quello azzurro ma quello buzzurro, perché questo è qua alla fine dei conti, no, perché queste sono quelle tipiche persone, no, che dice un ragno, chiamiamo il maschio a fare il lavoro è sporco, quanto amo le femministe tossiche, perché loro vogliono la botte piena e il marito ombriaco, ah, sì, femministe tossiche, le tipiche persone, guarda, che non si fanno mai mettere i piedi in capa, che danno, sì, no, è sempre il solito, maschio che deve fare, il maschio, il maschio deve fare il lavoro duro, cosa, però non deve essere una persona tutta, però non deve essere, vabbè, stacchiamo qua, basta così battuta, c'è coppe femministe tossiche, ah, però vanno avanti bene sti caschi, quindi il video, ah, non sai bene nessuno, tanti saluti, ah, e voda Omar, posto principe azzurro di quartiere, azzurro di quartiere, ah, e vabbè, stacchiamo qua, azzurro di quartiere, ah, e vabbè,